...amico che ci dà fuori sede, tifoso del Taranto, appassionato rosso-blu, che ci dà ogni settimana uno spunto di riflessione con cui noi ci congediamo. Grazie e arrivederci, grazie ad Antonello Ingenito, nostro inseparabile compagno di viaggio e naturalmente anche al grande tifoso rosso-blu, Alfonso Conte, che ha curato la regia con Mauro Ruggeri. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La seconda puntata, purtroppo non ultima di questa assurda trama, si è consumata a Pisa. No tessera del tifoso, pronta la polpetta avvelenata. Sistemati nella gradinata con ingresso comune e non protetto, con i tifosi avversari e sugli spalti un esile irrisibile cordone di stewards, dai volti tesi e terrorizzati di perdere il controllo della situazione. La curva, con duplice cancellata, contava sei tifosi con tessera, tre pompieri e cinque infermieri. Prima della partita alcuni supporter spisani erano preoccupati e increduli sulla follia di questo sistema, con tutta la buona volontà e civiltà. Chi può garantire sulle eventuali intenzioni di un singolo in relazione all'andamento della partita, del comportamento dell'arbitro e dell'atteggiamento dei calciatori? I questori dovrebbero valutare seriamente se vale la pena per non disattendere i principi della tessera del tifoso, con minor zelo ritardare qualche promozione o onorificenza, evitando, dopo qualche grave ma prevedibile evento, giustificazioni irrisibili, nascondendosi dietro il rispetto di disposizioni insensate. Quanto è successo nel rettangolo di gioco rappresenta una conferma sul fatto che questa squadra non può cambiare ogni settimana un modulo, in particolare insistere pervicaciamente con il 4-3-3, rigurgitata dal team come una pietanza indigesta. La nota è rivolta al signor Bruccato, credo, molto modestamente, che continuare a modificare l'assetto tattico e gli interpreti dopo sette giornate non può essere giustificabile con l'infortunio di un giocatore, nello specifico di Deo. Già con la Cavese, Penzalfini è stato immolato in una posizione innaturale, con il Pisa siamo entrati con una formazione abbottonata, non provetto, nulla sulle sue qualità del giocatore, al posto di Garufo ed un messaggio subliminale alla propria squadra. Qui siamo venuti con l'intento di non prenderle. Risultato? Un primo tempo inguardabile, con una voragine tra difesa e attacco, innocenti lasciato alla propria buona volontà, al punto che la posizione era arretrata di una ventina di metri. Rantier e ciotola che combattevano una incomprensibile partita da soli con risultati penosi. La cosiddetta triade di centrocampo in superiorità numerica, parole del mister, che al di là di tanta buona volontà di tecnico non mostravano nulla. Ed ora, per completare, abbiamo anche qualche cedimento strutturale in difesa con i centrali, in particolare Cotroneo, il quale ha brillato per assenza nella copertura delle marcature. Signor Bruccato, pur non avendo fatto corsi e supercorsi a Coverciano ed essendo uno dei 7.000 allenatori che seguono il Taranto, ci sono degli elementi che non possono essere ignorati. Mi creda a un buon organico, peraltro scelto da lei, ma cerchi di convincersi che il calcio è molto più semplice di quanto lei possa immaginare. Confermare Garufo al posto di Crovetto, le far risparmiare un cambio in corso d'opera e una modificazione tattica che comunque ha bisogno dei suoi tempi per divenire oliata ed efficace. Cosa le deve dire un tifoso deluso, come il sottoscritto? Attendiamo con speranza di Deo, pensa al fine e prosperi, ma aspettiamo soprattutto un gesto di contrizione da parte sua, privo di quella presuntuosa arroganza che vorrebbe mettere due veri trasparenti e smagliati alle contraddizioni tattiche, in ciclica oscillazione galileiana, in attesa di una salutare e sensata quiete. Infine un plauso accorato alla maturità e al generoso valore degli spartani, al seguito della squadra sotto la torre pendente, si può essere rispettati semplicemente con il carisma dei cori, dell'autorevolezza, senza sconti per nessuno. Lucchese, esprimi l'ultimo desiderio, stai arrivando allo Iacovone. Lucchese, esprimi l'ultimo desiderio, stai arrivando allo Iacovone.